Allora, ci siamo fatti portare col furgone, 50 metri da dove ci ha lasciato, questa qui la sto fatendo da Ceppo e di qua comincia il Fantasy. Va, vado io? Fantasy! Vabbè, per ora questo sembra un po' meglio. Più veloce, poi magari sono le ultime parole famose. Minchia, ancora! Ma che cazzo! Ancu! Questo è il pezzo, no, ci hanno detto che c'erano tre salite da fare. Questa è la seconda, eh? Purtro cane, preso quasi! Qui incrociamo la strada e continuiamo di qua. Wow! Che sgarbi, ho tagliato, mi sa! Che sgarbi, ragazzi! Bellissimo questo pezzo qui! Wow! Che figata quei due buchi, quei buchi! Qua si rientra! Qua si rientra! Ma qui allora rientra, ma ceperà lo qua sotto? Si, 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 si. Wow! Qua se manchi la passerella! Ahaha! Moontime bike! Applico! Qua si chi... ... ... ... ... ... ... ... ... ... qui è finito? ok siamo di nuovo sulla strada questo era fantasy? fantasy fatto perallo fantasy fatto